Scusate, mi dispiace aspettarmi un attimo? Non mi sembra carino andar via senza salutare il padrone di casa. Sgonfiali le chiappe. Vado col calcio di rigore. Bene, tacco! Go! Siamo rovinati. Porta, su, andiamo! Dai giù con quelle mani! Oh, oh, ti aspetto fuori. Oh, ho paura! Oh, dentro, dentro! Parla! Sta' attento a te!